Buongiorno e benvenuti in questo video. Oggi recensisco un film a cui sono particolarmente legato perché mi era stato consigliato dal gestore della videoteca due noveggio film che mi diceva fosse il suo film preferito. Allora io lo vedi e subito dopo la visione il film è diventato uno dei miei film preferiti. Il film in questione è 4 mesi e 3 settimane e 2 giorni, film romeno del 2007 diretto da Christian Mungiu, vincitore della Palma d'Oro lo stesso anno a Cannes. Il film è ambientato nella Romania del 1987, verso la fine del regime comunista. Utili e gabbitale, protagonista della vicenda, sono due studentesse universitari, due grandi amiche che condividono la stessa stanza nei alberghi degli studenti universitari di Bucharest. Gabita è incinta ed è costretta ad abortire, ma siccome l'aborto in quel periodo era illegale, sono costretti a chiedere aiuto a un abortista, il signor Bebe, un uomo che gli dirà quando e dove effettuare l'aborto. La trama alla fine è questa, ma quindi perché questo film mi è stato così impresso? I punti a favore sono molti, partiamo da uno dei primi, gli attori. Otilia è interpretata da Ana Maria Marinka. Alla fine è lei la protagonista del film, il fulcro di tutta la storia, personaggio talmente legato alla sua amica che alla fine per amicizia consegnerà a fare cose contro la legge e contro anche la propria volontà. E Ana Maria Marinka è stata semplicemente spettacolare nell'interpretarla, ma ancora più spettacolare di lei è stata Laura Vasilio nell'interpretare Gabita. Gabita è un personaggio debole, insicuro, timido, non riuscirà mai a gestire la situazione, non riuscirà mai a gestire questa vicenda che le sta accadendo. Era spesso con i nervosi e ne riuscirà stramata da questa vicenda. E anche Laura Vasilio è stata spettacolare. Poi abbiamo il signor Bebe, interpretato da Vlad Ivanov, che tra l'altro è uno degli attori più noti di tutto il film. Lo si è visto nel caso Crenest, nel concerto e anche nelle recente Snowpiercer. Gabita è un personaggio molto strano, perché non si sa mai se è uno stronzo che vuole fare questo tanto per fare, o se forse ha preso veramente a cuore la vicenda e quindi lo vuole fare per aiutarle. Anche Vlad Ivanov è stato bravissimo, probabilmente la sua interpretazione è migliore. Nel cast sono presenti anche Luminita Georgiou e Alexandro Potocyan. E adesso passiamo a quello che per me è il più grande pregio del film, il lato tecnico e la regia. Un quasi retrodiente mongeo ci mostra come con una telecamera si possono fare cose veramente straordinarie. Inquadrature e piani di sequenza lunghissimi che tengono lo spettatore attaccato allo schermo, ma che nonostante ciò non danno mai fastidio. Nei primi 15 minuti noi vediamo dei movimenti di macchina che battono completamente il 90% dei film italiani o americani nei ultimi 10 anni. Se a ciò aggiungiamo una bellissima fotografia e un'ottima direzione del suono, non si può fare altro che rimanere a bocca aperta. E' bello che questo film l'hanno fatto in Romania, non l'hanno fatto a Hollywood. L'assenza di corona sonora poi lo rende forse ancora più potente e devastante. Il film inoltre comunque ne scena è davvero davvero forti. Pensate che la prima volta che l'ho visto a bot non riuscivo neanche a vedere alcune scene, tipo la scena dell'aborto o quella del feto. Chi ha visto sa. Che dire l'altro del film? Come ho detto è uno dei miei preferiti. È un film che consiglio molto a chi lo sappia reggere, quindi non a chi è debole di cuore o di stomaco. È un film che fa riflettere molto e che fa comprendere molto la storia di un paese, ossia l'Armania. Un paese di un popolo tra l'altro molto vicino agli italiani. Scommetto che se tutti i razzisti italiani vedessero questo film sicuramente smetterebbero di criticare. È libero che questo racconta soltanto una storia di aborto. Non parla di Ceaucescu, non parla della rivoluzione, non parla del post-dicembrismo, ma lo stesso riesce a farti capire tutto e riesce a ricreare alla perfezione l'atmosfera dell'epoca. Un'epoca dall'altro neanche tanto distante nel tempo. Infine, se avete lo stomaco per reggere questo film guardatevelo assolutamente. Bisogna guardarlo per capire la storia di un paese, come dicevo, molto vicino a noi. E per capire anche quale tragedia sia l'aborto, in particolar modo quello che hanno destino. La recensione finisce qui, quindi se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete. E noi ci vediamo al prossimo video.